La commissione provinciale che non si riuniva più dall'arresto di Totò Riina, da questa indagine emerge che si era ricostituita, si è ricostituita anche con un metodo particolare perché ha segnato il vertice al più anziano dei componenti, dei capi mandamento. Nello stesso momento ha determinato la centralità della commissione a Palermo, la città di Palermo.